Tutto pronto, partiti cavalli dell'ultima corsa. Dal centro del gruppo emerge Ismael, ma all'interno incontra l'opposizione di Zardin. Tra i due troviamo anche Yes We Can, dietro a questi buona partenza anche per Tale of Tales con lo steccato largo. Poi ancora He-Rapper, alle cui spalle agisce anche Boccioni, uno dei più attesi, ha chiuso da favorito. A precedere poi anche Messera Aprile, Vivimi e tutto il resto del gruppo con i cavalli che sono già a metà curva. Zardin, dopo aver preso posizione, sta rallentando. In seconda c'è Tale of Tales, poi in terza troviamo all'interno Ismael, He-Rapper, Yes We Can, Golden Stella. Ancora Boccioni, Vivimi, poi al suo esterno Messera Aprile con Sansa Phonic. Cavalli che sono addirittura ad arrivo e Zardin ha cominciato la lunga volata lungo lo steccato. Più al centro della pista si propongono Ismael, Tale of Tales, poi He-Rapper, Boccioni che temporeggia. Golden Stella che cerca lo spazio all'interno e stessa cosa Yes We Can. Dalle retrovie tentano di venire avanti anche Vivimi e Sansa Phonic. Quando mancano 350 metri dal traguardo, Zardin è in vantaggio nei confronti di Ismael. Ci prova all'esterno He-Rapper che adesso produce lo scatto. He-Rapper che si porta al comando nei confronti di Ismael. Passa in vantaggio He-Rapper nei confronti dello stesso Ismael. Ci prova dalle retrovie Golden Stella. Golden Stella che va contro He-Rapper con Golden Stella che giustizia a sorpresa. He-Rapper. Dobbiamo rivederla ma l'impressione è questa. Con il pesino, nonostante rientro, contro tutti i pronostici, essendo l'ultima cavalla del campo, ha dato un severo attacco ai He-Rapper. Rivediamolo stretto per capire se è andata veramente così. Direi proprio di sì. Golden Stella che giustizia e nega la tripletta a Samuele Diana che guarda il suo avversario. Doppietta per Gian Pasquale Fois. 12-3. Poi al terzo e al quarto posto sono vicini. Yes we can e Vivimi. Poi Sanza Fonica a completare il Quintè e Ismael al suo interno per Golden Stella. Una vittoria a sorpresa. Prima vittoria in carriera per la figlia di Ripon Winkle al diciassettesimo tentativo. La quota al tot era di 19,31. Gian Pasquale Fois in sella. Il training è quello di Giuliano Fratini. Colori sono quelli della Golden Horse. 12 al primo posto, 3 al secondo, al terzo ci sono il 9 Vivimi e il 5 Ismael. E per il quinto il numero 8, i Sanza Fonica. Dunque numericamente lo andiamo a ricordare. 12-3. 7-5-8. È un'idea di arrivo. Chiaramente c'è una foto che riguarda il terzo posto. È un'idea di riunione. Grazie a tutti